inganni, menzogne, bugie. La storia dello sport e delle olimpiadi ne è piena. Atleti che hanno scelto scorciatoie, federazioni che hanno perseguito pratiche illegali, competizioni viziate dalla vanagloria di uomini e donne che hanno scelto il lato oscuro. La vittoria come unico fine l'illecito, una necessità che calpesta i valori dello sport. E allora oggi qui a Campeon, nel nostro racconto, parleremo di queste scorciatoie, del doping e dei fattacci legati alla pratica illegale che consiste nell'assunzione o nella somministrazione di sostanze che migliorano artificiosamente le prestazioni agonistiche. Ma non solo. Ricorderemo episodi, personaggi, momenti che hanno segnato in maniera indelebile alcune delle gare più attese del panorama olimpico. La delusione che abbiamo vissuto quando i nostri idoli sono caduti, le lacrime degli stessi quando sono crollati sotto il peso dei sensi di colpa. La vergogna dipinta sui loro volti. Ed ecco che quei risultati strabilianti scoperto l'inghippo diventano carta straccia e le medaglie conseguite, merce da restituire ai legittimi proprietari. Ma il doping di cui parleremo oggi in maniera peculiare non è quello dei farmaci, di sofisticati laboratori medici. Non ci sono alambicchi o case farmaceutiche alle spalle, perché questa non è la storia di Ivan Drago contro Rocky. È qualcosa di scorretto, sì, ma geniale nella sua realizzazione. Qualcosa a cui nessuno aveva mai pensato. Parleremo di diversi sport, ma soprattutto di uno sport multidisciplinare, ideato da una intuizione di Pierre de Coubertin, il papà delle Olimpiadi, e introdotto ai giochi del 1912 con la dicitura di Pentathlon moderno. Così come nell'antichità le cinque prove del Pentathlon servivano a testare le capacità del soldato ideale dell'epoca, de Coubertin pensò ad una competizione che simulasse l'esperienza di un soldato della sua epoca, a cavallo tra 800 e 900, dietro le linee nemiche. L'atleta doveva cavalcare un cavallo non suo, usare la pistola e la spada, nuotare e correre. L'edizione dei giochi a cui facciamo riferimento nel nostro racconto è quella di Montreal, Canada, del 1976, le ventunesime dell'epoca moderna che andarono in scena dal 17 luglio al primo agosto. Il protagonista è l'atleta sovietico Boris Onyshenko e vi racconteremo la storia di un vero e proprio genio del male e del suo tentativo di imbrogliare alla luce del sole durante il più importante evento sportivo al mondo. Quella canadese sarà un'edizione particolare e vi renderemo conto dei protagonisti, dei loro risultati, delle loro prestazioni. Campeon accende il bracere olimpico con qualche giorno di anticipo e vi porta a Parigi 2024 partendo da Montreal 1976 in un viaggio all'interno dell'inganno. Cizzius, Alzius, Forzius. Più veloce, più alto, più forte. Buon viaggio olimpico con Campeon. Il primo aprile la Camera dei Deputati approva con i voti di democristiani e postfascisti del movimento sociale l'articolo 2 della legge sull'aborto in cui viene specificato che la pratica è considerata reato ed è ammessa solo in casi di pericolo per la vita della madre. Fortunatamente due anni dopo arriverà la legge 194 a regolare un tema così importante, ancora oggi attaccato e minacciato per quella che è tra le leggi più discusse in vigore in Italia. Nasce in un garage in California la Apple fondata da Steve Jobs e Steve Bosniak. In Portogallo viene approvata la nuova Costituzione, figlia della rivoluzione dei Garofani. In maggio un violento terremoto devasta il Friuli e un mese dopo Adriano Panatta vince il Roland Garros, ultimo italiano a vincere un titolo slam prima dell'avvento di Yannick Sinner. Il 17 luglio 1976 si aprono i giochi di Montreal. La città canadese vince il ballottaggio con Mosca dopo aver eliminato Los Angeles nella prima votazione. La regina Elisabetta II, in quanto monarca del Canada, inaugura la cerimonia ufficiale insieme al suo consorte Filippo e suo figlio Andrea, mentre la principessa Anna gareggia come concorrente per la squadra della Gran Bretagna nella specialità di equitazione. Sono giochi tormentati dal boicottaggio di ben 29 stati a causa di una decisione congiunta per protesta contro la Nuova Zelanda. Gli All Blacks, la squadra nazionale di rugby, si reca in Sudafrica per una tournée in cui gioca soltanto con squadre composte da giocatori bianchi e questa scelta si scontra con la decisione di escludere dai giochi e da tutte le manifestazioni sportive Johannesburg a causa delle politiche di apartheid. L'Italia arriva in Canada con una delegazione di 221 atleti. I giochi di Montreal sono il primo evento a colori trasmesso dalla RAI, anche se la nuova tecnologia entrerà a regime soltanto nel 1977. Saranno i giochi di Nadia Comaneci e di Nelly Kim, le prime due atlete nella ginnastica artistica, a ricevere un 10. Per la romena, che domina la ginnastica artistica con tre medaglie d'oro, un argento e un bronzo, accade durante le parallele asimmetriche e il corpo libero, mentre la sovietica raggiunge lo strabiliante risultato nell'esercizio di volteggio. L'assegnazione del punteggio perfetto viene ritardata perché i tabelloni elettronici sono programmati per visualizzare votazioni fino ad un massimo di 9.99. Dei tanti record e dei tanti atleti che si danno battaglia sui campi di gara, ricordiamo in ordine sparso El Caballo, Alberto Guantoregna, cubano, primo atleta nella storia delle Olimpiadi a vincere 400 e 800 metri piani. Edwin Moses, ostacolista, che nei 400 metri stabilisce il record mantenendo l'incredibile cadenza di 13 passi tra un ostacolo e gli altri, mentre il Canada, organizzatore dell'evento, non sarà in grado di vincere nemmeno una medaglia d'oro. Questa edizione è ricordata per le problematiche organizzative di molti impianti e infrastrutture terminati a ridosso dell'inizio dei giochi, con un aumento dei costi che costringerà la città canadese a spalmare il debito per oltre 30 anni. Ma torniamo alla nostra storia e alla gara di Pentathlon Moderno, che si svolge tra il 18 e il 22 luglio sui diversi siti di gara. Per la gara di equitazione venne scelta la località di Bromont, nel Quebec del Sud, a meno di un'ora da Montreal. La prova di scherma si tiene il giorno successivo all'Università di Montreal. Il terzo giorno è la volta del tiro con la pistola in un sobborgo chiamato l'HD e per la gara di nuoto viene scelta la piscina del Montreal Olympic. Infine, per i 4 km di corsa campestre, viene scelto il Mazonev Park con l'ingresso finale nello stadio olimpico. Il Pentathlon è una gara che si sviluppa su 5 giorni, con gli atleti che vengono sollecitati a mantenere alte prestazioni per garantirsi la medaglia. Una gara anche piuttosto dura, quasi da Superman, al pari degli altri sport multiprova come Decathlon e Triathlon. Prove massacranti e tecniche in cui eccellono, ovviamente, gli atleti più completi e più continui delle 5 discipline. Proprio nel Pentathlon, alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, il CIO applica la prima squalifica per doping. E' lo svedese Hans Lienvenval, che verrà ricordato negli annali come il primo atleta nella storia dei giochi olimpici ad essere escluso per uso di sostanze illegali. Lienvenval, trovato con una quantità eccessiva di alcol nel corpo, si giustificherà dicendo che ha bevuto due birre per stemperare la tensione della gara. Verità o menzogna, lo svedese deve restituire la medaglia di bronzo della prova squadre per quella che verrà ricordata come una gigantesca onta per la Svezia, che aveva tenuto a battesimo il Pentathlon nell'edizione di Stoccolma del 1912, con tanto di medaglia d'oro per l'Enfant du Pays, Gosta Lilioc. La decisione di inserire i controlli anti-doping venne decisa dal Comitato Olimpico Internazionale durante la riunione di Nuova Delhi nel maggio del 1967. Due mesi dopo, Tony Simpson, ciclista, morì sul Mont Ventoux nella tredicesima tappa del Tour de France, nella prima di quelle che vengono considerate morti per doping. Tante, troppe similitudini coincidono con la morte del ciclista Knud Jensen ai giochi di Roma del 1964. Fatti, anzi fattacci e circostanze, resero necessario l'intervento del sistema sportivo. In realtà il doping aveva già fatto capolino qua e là, nella storia degli giochi, a partire sin dall'edizione del 1904. Il primo, non sanzionato, fu lo statunitense Thomas X, medaglia d'oro nella maratona dell'edizione di St. Louis. Il suo allenatore, durante il tragitto, gli aveva somministrato iniezioni di solfato di stricnina, uno stimolante molto diffuso ai tempi, che invece oggi, in quantità maggiori, viene usato nell'industria della deratizzazione. L'era delle anfetamine incominciò ai giochi di Berlino del 1936 con la benzedrina. In concomitanza con lo sviluppo dell'industria farmaceutica, l'arsenale dei farmaci dopanti si allargò enormemente. Abbiamo già parlato di Jensen, ciclista, che nell'edizione di Roma cade durante la gara dei 100 km a squadre, entra in coma e muore tre ore dopo il suo incidente. Si pensa subito ad un malore causato dal grande caldo dell'estate romana, 42 i gradi sul percorso, ma l'autopsia rivela una assunzione elevata di stimolanti, aggravata dallo sforzo fisico cui il danese era stato sottoposto durante la prova. I casi si moltiplicano, le Olimpiadi diventano teatro di scandali più o meno eclatanti e quando i giochi si fanno duri, il ricorso a sotterfugi medici di ogni genere si evolve nel tempo con l'antico adagio che recita il doping e anni luce avanti all'antidoping, a significare che chi trama nell'ombra ha strumenti e conoscenze maggiori di chi invece è costretto a inseguire. Il caso più eclatante per via di un battage e di un'attenzione mediatica alle stelle è quello di Ben Johnson alle Olimpiadi di Seul del 1988. Questo forse è l'episodio spartiacque che apre una stagione nuova nei confronti del doping. La gara è quella dei 100 metri piani. Ai blocchi un parterre de rois, Carl Lewis, il figlio del vento, Calvin Smith, Dennis Mitchell, tutti per gli Stati Uniti. Robson da Silva, Brasile, Ray Stewart, Jamaica, Linford Christie, Gran Bretagna, Desai Williams e Ben Johnson, Canada. Il più atteso dei duelli è quello tra Lewis e Johnson, duello già andato in scena alle Olimpiadi del 1984 a Los Angeles con la vittoria di Lewis e con la rivincita del canadese ai mondiali del 1987. Prima di raccontare questa singola prova occorre fare un passo indietro per capire cosa vi sia dietro a questa rivalità che nel caso di Johnson si è trasformata in odio viscerale verso Lewis, colpevole ai suoi occhi di interpretare l'atletica leggera come una sorta di show personale e che pertanto merita di essere scalzato dal suo trono dorato. A Seul finisce in gloria per il canadese che chiude con il tempo di 9,79, nuovo record del mondo, proprio su Lewis secondo a 9,92 e Linford Christie terzo a 9,97. Quella di Ben Johnson è una prestazione incredibile che desta però qualche sospetto di troppo e infatti qualche giorno dopo durante un controllo anti-doping l'esito parla chiaro, steroidi. La vittoria del canadese è cancellata e la medaglia d'oro finisce al collo di Carl Lewis. Sempre ai giochi del 1988 e la Germania Est che ottiene risultati eclatanti raggiungendo il maggior numero di medaglie mai vinto in precedenza. Basti pensare che la squadra femminile di nuoto vinse tutte le medaglie d'oro eccetto due. Ma tutti questi successi destano più di un dubbio e le prove sono schiaccianti. Quello è doping di stato, un sistema concepito in maniera che gli atleti venissero sistematicamente dopati senza che nessuno di loro sospettasse qualcosa. Il silenzio assoluto ad ogni livello, tecnico, federale, umano, sportivo. In Germania è avvenuta una cospirazione sportiva a fini politici, un sistema piramidale con decisioni politiche e disposizioni molto accurate dei medici sportivi e passate agli allenatori. Tutto questo perché lo sport fa parte della propaganda e gli atleti sono costretti a vincere ad ogni costo. Questo è l'ordine che arriva dall'alto. Un alone di mistero circonda le loro vite, le loro prestazioni sono superlative ma loro non sanno la verità. Agli atleti viene detto che quelle pillole sono vitamine ma in realtà sono diversi mix di sostanze dopanti. A Sydney 2000 lo scandalo diventa globale e colpisce una campionessa diventata emblema di classe, bellezza ma soprattutto sinonimo di vittoria. Marion Jones, la regina delle olimpiadi australiane, la donna capace di vincere 5 medaglie di cui 3 d'oro, 100, 200 e staffetta 4x4 e 2 di bronzo nel lungo e nella staffetta 4x100. La Jones viene accusata 3 anni dopo di aver fatto uso di doping. Il suo nome emerge dalle carte del caso Balco, la potentissima casa farmaceutica che distribuiva sostanze dopanti a tanti sportivi in tante discipline differenti. Il coinvolgimento della Jones di suo marito Jim Montgomery e del suo ex marito CJ Hunter viene confermato dalle indagini. La bella Marion nega tutto. Sei anni dopo, nel 2006, la Jones viene trovata positiva ad un controllo antidoping ma le controanalisi la scagionano. Peccato che il nome che sale alla ribalta sia quello del suo allenatore Graham che, spalle al muro, vuota il sacco. Così, il 5 ottobre del 2007, Marion Jones si ritira dalle scene e in una drammatica conferenza stampa ammette di aver mentito durante il processo Balco. La sua rivelazione le costa una carriera costellata di vittorie basate sulla menzogna, con tanto di riassegnazione delle medaglie vinte a Sydney e delle vittorie accumulate dal 2000 in avanti. Quanto accade ad Atene 2004, però, è grottesco, degno di una commedia dell'assurdo, anzi, permettetemi, di una vera e propria tragedia. Protagonista, il greco Costantino Schenteris, detentore della medaglia d'oro di Sydney 2000, che arriva dal logico favorito alle Olimpiadi casalinghe nelle gare di velocità su pista, 100 e 200 metri. In patria è un vero e proprio idolo ed è altrettanto logica la scelta di indicarlo come alfiere e portabandiera della delegazione ellenica. Costas, però, non prenderà parte né alla cerimonia di apertura né tantomeno alle gare. Un mistero, svelato dallo stesso atleta che mise in scena il più tragico per l'appunto degli inganni. Avete presente quei thriller di bassa lega in cui si capisce subito chi è l'assassino. Della trama, nemmeno troppo intricata, fa parte anche una donna, Ekaterini Tanu, velocista, 100 metrista, medaglia d'argento a Sydney. I due sono compagni di allenamento, entrambi sono i papabili ad accendere la fiamma olimpica e i greci ripongono in loro due le speranze di medaglia. Il giorno prima dell'inaugurazione dei giochi, però, entrambi saltano un obbligatorio test antidoping. Motivo? Un brutto incidente motociclistico che li ha visti coinvolti proprio mentre stanno andando al villaggio olimpico. Il 18 agosto, Kenteris e Tanu annunciano il loro ritiro dai giochi per quello che loro stessi definirono l'interesse del paese. La IAF, la Federazione di Atletica Internazionale, li sospende con effetto immediato il 22 dicembre 2004 e solo nel giugno del 2005 la federazione greca li scagiona. Nel 2006, al termine di un'aspra di atriba legale, gli atleti raggiungono un accordo con la IAF, accettando le violazioni delle norme antidoping, venendo riammessi alle gare dopo due anni di squalifica. Finisce, avvolta da un velo nemmeno troppo misterioso, la carriera di due atleti balzati agli onori delle cronache per una specie di pasticciaccio brutto de via Merulana in salsa greca. Nel 2008 è il turno del nordcoreano Kim Yong-su e dei suoi nervi troppo distesi. Bronzo alle Olimpiadi di Atene nel 2004, vincitore di due medaglie alle Olimpiadi di Pechino del 2008, nel tiro con la pistola da 50 metri. Nervi distesi, anche grazie al propranololo, un beta bloccante utilizzato principalmente per trattare l'ipertensione, ma usato anche per prevenire i tremori. Kim è stato privato delle sue due medaglie, agli occhi di tutto il mondo, ma non in Corea del Nord, dove la notizia della sua squalifica è stata nascosta dalla Korea Central News Agency. Forse, però, il caso più eclatante e mediaticamente più noto degli ultimi anni per il lungo strascico giudiziario è sicuramente quello di Alex Schwarzer. Marciatore, dopo essere risultato positivo ad un controllo antidoping alla vigilia dei giochi olimpici di Londra 2012, l'azzurro è stato squalificato dal Tribunale Nazionale Antidoping fino al 29 aprile 2016. Rientrato in attività in occasione dei mondiali a squadra di marcia, Schwarzer vince la 50 km, ottenendo la qualificazione per i giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016. Ma il 22 giugno dello stesso anno viene comunicato alla FIDAL che Schwarzer risulta nuovamente positivo ad un controllo su un campione di urine prelevatogli in un controllo a sorpresa il primo gennaio dello stesso anno. La sostanza incriminata sarebbe il testosterone. Schwarzer si difende dichiarandosi innocente ma la JAF decide di sospenderlo in via cautelare in attesa della decisione finale. Il 10 agosto 2016 il TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport, considerata la seconda violazione delle norme antidoping, squalifica l'atleta per otto anni. Come diretta conseguenza della squalifica, oltre a non poter partecipare ai giochi olimpici di Rio 2016, tutti i suoi risultati sportivi del 2016 vengono cancellati. Ma quello che si abbatte sull'atletica russa è un vero e proprio uregano. La commissione della VADA, l'agenzia mondiale antidoping presieduta dal canadese Dick Pound, presenta un report dai riscontri agghiaccianti. La Russia avrebbe praticato negli ultimi anni un vero e proprio doping di Stato, creando una organizzazione interamente votata alla manipolazione dei risultati. Chiesta anche la radiazione a vita di 5 atleti, tra cui i nomi più noti sono quelli dell'Olimpionica degli 800 a Londra, Maria Savinova e della terza di quella gara e Caterina poi Stogova. Chiesta la squalifica per due anni di tutti gli atleti russi e quindi per loro niente Olimpiadi e niente europei. Alle Olimpiadi di Rio 2016 la decisione di ammettere o meno gli atleti russi fu presa dalle singole federazioni sportive mondiali, diverso invece il metro alle Paralimpiadi dove nessuno è stato ammesso. Stimolanti, beta-bloccanti, anabolizzanti, steroidi, narcotici, ormoni della crescita, insomma una vera e propria evoluzione delle sostanze vietate, ma soprattutto una serie di illeciti che ha assunto connotati pericolosi, dannosi per la salute degli atleti, che come abbiamo raccontato sono rimasti vittime della loro bramosia di successo. I controlli sempre più puntuali e incisivi da una parte, il mondo dello sport che muove denaro e promette ai vincitori e sponsor importanti giri d'affari dall'altro. Quanto un atleta moralmente viene aiutato a stare alla larga dal doping? Torniamo a Melbourne e alla gara di pentathlon moderno. Campeon apre sempre queste sue puntate olimpiche con il motto Cizius, Alzius, Forzius, voluto da Pierre de Coubertin e ideato da Henri Didon. Più veloce, più in alto, più forte, un motto che trova una corrispondenza ad amorosi sensi con la disciplina del pentathlon che riassume in cinque attività l'atleta moderno, differenziandolo dal pentathlon tradizionale che nella Grecia antica era composto da prove di velocità, salto in lungo, lancio del disco e del giavellotto oltre alla lotta. Dal 1912 a Stoccolma il pentathlon cambia veste, equitazione, scherma, tiro, nuoto e corsa. E caso curioso sono proprio gli svedesi a dominare le prove olimpiche di Stoccolma, Parigi, Amsterdam, Los Angeles e dopo la pausa bellica a Londra nel 48 e ad Helsinki nel 52. Poi viene il turno delle federazioni dell'est con Ungheria e URSS che si aggiudicano alternativamente le medaglie delle olimpiadi successive. Anche perché nel quadriennio precedente le due nazioni si sono divise equamente onori e vittorie. Da una parte gli ungheresi con Balcio e Nemet, dall'altra i sovietici con Ledninov, Shmeliov e Onyshenko. A Melbourne è facile pensare che la vittoria sarà nuovamente un fatto tra sovietici e ungheresi. La competizione si apre con la gara di equitazione a Bromont su un percorso di 12 barriere che i cavalieri superano piuttosto agevolmente, considerando che al comando si trovano ben 11 atleti con 1100 punti a testa. Il concorso a squadre vede la Svezia a 3.268 punti, seguita da Francia e Gran Bretagna. Attardate sia l'Unione Sovietica, ottava a quota 3.136 punti, e l'Ungheria, tredicesima a 2.722. I maggiari non hanno cominciato bene e solo nel giorno successivo, nella prova di scherma specialità spada, che si svolgerà allo Stade di Verde dell'Università di Montreal, Kanchai e Satchits contribuiscono a recuperare posizioni, risalendo al quarto posto con 5545 punti, a 200 lunghezze dai capofila cecoslovacchi. Nella prova di scherma, attesissimo, sale in pedana il sovietico Boris Onyshenko, un oro e due argenti olimpici, cinque titoli mondiali, due argenti e quattro bronzi. Una istituzione del pentathlon, uno degli atleti simbolo della specialità. Nato in quella che oggi è Ucraina, in un villaggio vicino a Poltava, Onyshenko, quasi quarantenne, è conscio di essere al suo ultimo giro di waltzer, nell'ultima possibilità di conquistare l'oro olimpico nell'individuale, dopo il quinto posto di Città del Messico del 1968 e l'argento di Monaco del 72. Proprio quattro anni prima a Monaco di Baviera, Onyshenko era stato capace di aggiudicarsi 45 assalti su 56. La scherma è decisamente la prova a lui più congeniale. Nel pentathlon moderno la gara si svolge in un girone all'italiana in cui ogni atleta deve confrontarsi con gli altri partecipanti e la regola dice che l'assalto si conclude alla sola prima stoccata vincente. Per il terzetto sovietico, composto anche dal campione mondiale Ledninov e da Boris Mosolov, la prima rotazione è contro la Gran Bretagna. Di fronte al mancino Onyshenko c'è un altro mancino, il britannico Adrian Parker. Il sovietico affonda e la luce che segnala il colpo si accende. Per chiarire il funzionamento della scherma bisogna dire che un colpo, messo a segno quando si preme la punta della spada, chiude il circuito elettrico facendo contatto tra i due fili che percorrono la lunghezza della spada stessa fino alla base all'interno della guardia della campana. Il circuito continua da una spina vicino all'impugnatura attraverso il filo del corpo, nella giacca dello schermidore arriva alla bobina elettrica e alla scatola del punteggio e attiva una luce rossa o verde per indicare chi dei due contendenti ha segnato il colpo. Il britannico capitola di fronte alla stoccata vincente del sovietico. Parker protesta, per lui non c'è stato nessun tocco e le sue invettive sono rivolte all'arbitro. Il britannico si toglie la maschera e chiede che la spada del sovietico venga controllata. Ad un primo esame superficiale la spada di Onyshenko sembra regolare e l'arbitro non annulla il tocco. Adesso tocca al britannico Fox incrociare le lame con il sovietico. Mondano, educato, affascinante, biondo, occhi azzurri, Fox è il modello del pentatleta moderno, una specie di James Bond al servizio di sua maestà britannica. Fox è uno dei più considerati all'interno della comunità di questo sport e possiede un dono singolare, la capacità di parlare con un reale della corona o con l'ultimo dei disperati e di far sentire speciale chiunque gli stia intorno. Una delle sue espressioni preferite è non ci vuole sforzo per essere gentili con le persone. Abbiamo spiegato che i duelli si decidono su una singola stoccata oppure dopo tre minuti se non ci sono stati tocchi vincenti. A 40 secondi dalla fine dell'assalto Fox e Onyshenko non hanno portato l'attacco decisivo e il regolamento in caso di parità al termine dei tre minuti assegna una sconfitta ciascuno ai due contendenti. Fox attira Onyshenko in un attacco e descrive quel momento così. «Ero ancora fuori dalla distanza di tiro quando ho preso la lama di Onyshenko molto alta prima che la sua lama fosse vicino a me. La sua lama era sopra la mia testa, gli ho dato un colpo al petto ma la mia luce si è accesa. Il colpo è non plausibile nella migliore delle ipotesi, fisicamente impossibile nella peggiore. Nell'istante in cui viene registrato il tocco di Onyshenko, la punta della sua spada punta verso il cielo. Com'è possibile che quel tocco sia andato a buon fine?» Fox capisce che in quella spada qualcosa non va e che il dubbio che tutti hanno avuto nell'assalto tra Onyshenko e Parker si è nuovamente ripetuto con la luce elettronica che si è accesa senza che il britannico sia stato toccato. Il dubbio diventa certezza nell'assalto successivo con i britannici che chiedono nuovamente l'intervento del giudice arbitro, l'italiano Guido Malacarne. Questa volta, prima di ricontrollare per la seconda volta l'arma del sovietico, Malacarne annulla la stoccata. Nel frattempo la gara procede e a Onyshenko viene consegnata un'altra spada per proseguire nel torneo, mentre la sua viene esaminata dagli ispettori di gara. Mentre i giudici sono al lavoro, analizzando e smontando la spada di Onyshenko, il sovietico in sette assalti ottiene cinque vittorie e due sconfitte, un risultato di tutto rispetto. Ma dopo circa un'ora, l'inganno è scoperto. Questa volta non si tratta di doping farmacologico, non ci sono sostanze che aiutano l'atleta a migliorare la sua prestazione. Qui si parla di doping tecnologico, di marchi ingegni, di furberie, di un vero e proprio raggiro. All'altezza dell'impugnatura, all'interno dell'Elsa, l'arma del sovietico ha un pulsante. Ogni volta che quel pulsante viene premuto, trasmette un impulso che assegna la stoccata a Onyshenko. Ovviamente il sovietico viene espulso dal torneo e l'Unione Sovietica non può difendere il suo titolo olimpico. Sandor Kerekesh, direttore della competizione olimpica di Pentathlon, dichiarò «è stata una palese e deliberata manipolazione dell'arma, è stato come catturare un assassino con la pistola fumante seduto davanti ad un cadavere. Onyshenko è una brava persona, per me è uno shock tremendo. Per vent'anni è stato un atleta straordinario, in Unione Sovietica è un eroe, è un idolo per i bambini. Ai suoi compagni di squadra Ledninov e Mosolov viene concesso di proseguire la competizione individuale. Ma perché un atleta così forte, soprattutto in quella specialità, ha avuto bisogno di ricorrere a questo inganno? Il britannico Fox prova a dare una spiegazione. Oggi sui concorrenti vengono esercitate pressioni politiche terribili, il bisogno di vincere è troppo grande, sono distrutto e lo sono anche tutti i russi, ci conosciamo tutti bene, siamo tutti amici». Quando il suo stratagemma viene svelato, Onyshenko esce tristemente dalla sala, fermandosi soltanto per chiedere scusa a Fox. L'affaire Onyshenko esplode, USA e URSS sono invischiate nella guerra fredda e le opposte fazioni reagiscono in maniera diametralmente opposta. I sovietici si chiudono in un mutismo imbarazzante e per evitare i media e gli assalti degli stessi durante la notte prelevano l'atleta dal villaggio olimpico con un'auto privata e lo rimpatriano con un volo diretto per Kiev. La radio russa riferirà, il nostro atleta stava tirando con una spada che non soddisfaceva i requisiti delle regole internazionali. Fine delle trasmissioni. A Ovest invece mettono il dito nella piaga, soprattutto con i giornali che si divertono a raccontare una delle storie più buffe, ridicole ma anche più amare di sempre. Boris the cheat, Boris l'imbroglione oppure Disonnishenko sono i titoli dei quotidiani dell'epoca. Quanto accaduto apre una serie di dubbi sul fatto che il sovietico abbia usato anche precedentemente un inganno del genere, ma ormai non c'è più possibilità di riscontro e pertanto le medaglie e i titoli vinti da Onishenko rimangono tali. La gara procede e vede la vittoria del polacco Pichak Pichak davanti al cecoslovacco Bartu per soli 35 punti. E Onishenko? La sua furbata tecnologica non passa inosservata agli occhi del bureau sovietico e a distanza di alcuni mesi dalla fine delle Olimpiadi, il pentatleta viene convocato dal segretario generale del PQS Leonid Brezhnev per un colloquio. Al termine dello stesso viene congedato dall'armata russa, multato di 5.000 rubli e revocati tutti i riconoscimenti sportivi ottenuti in carriera. Rientrato a Kiev, lavorerà come tassista e come guardiano di una piscina. La sua sarà una esistenza mediocre, quella di un uomo che ha perso tutte le sue qualità. A Monaco 1972 ben 14 atleti avevano assunto uno stimolante. A Città del Messico nel 68 era stato l'alcol a tradire lo svedese Lilienval e per la terza edizione consecutiva dei giochi il pentathlon è nell'occhio del ciclone. Eppure questa di Onishenko è la più grave e dannosa delle violazioni delle regole. Un grande maestro dello sport russo, 38 anni, maggiore dell'esercito, segretario generale della Federazione Russa di Pentathlon, due volte campione nazionale, medaglia d'argento nel 1972 e membro della squadra nazionale che vinse la medaglia d'oro a Monaco, sorpreso mentre utilizzava un apparecchio elettrico che gli permette di registrare falsi colpi nella gara di schermo. Se la sua spada fosse stata collegata normalmente una luce avrebbe lampeggiato ogni volta che avesse toccato un avversario, ma a quanto pare Onishenko ha aggiunto un cavo in più al circuito controllato da un pulsante nascosto sotto la rilegatura in pelle, in modo che fosse impossibile da individuare da chi avesse controllato le sue armi. Era il favorito e voleva vincere a tutti i costi per le pressioni che arrivavano dall'alto, dai palazzi della politica, ma soprattutto perché voleva fortemente quella promozione a tenente colonnello che gli avrebbe permesso di ricoprire una posizione elevata nell'amministrazione dello sport russo. A Kiev non è ancora scoppiata la guerra, ma gli effetti della pandemia di Covid mordono anche a quelle latitudini. È il luglio del 2020, il telefono squilla, è ora di cena, il numero è ucraino, la voce che parla in russo è educata, formale, incrollabile. Buonasera, so che mi avete cercato. Buonasera a lei, signor Onnischenko, sarebbe disposto a incontrarci? No. Quindi non vuole parlare con noi? Assolutamente no. Perché? Perché è doloroso parlarne? Vede, sarebbe come riaprire una ferita. Io non voglio disturbare me stesso e nemmeno lei. Non voglio discolparmi, non voglio raccontare chi sono, se buono o cattivo. Sono molto grato per il vostro interesse, ma mi rifiuto di collaborare con lei e con il suo giornale. Boris Onnischenko ha 83 anni e ha scelto di non riaprire il suo baule pieno di ricordi e di bugie. Non salirà sulla lunga scala a chiocciola per recarsi nella sua polverosa soffitta a cercare i ritagli di giornale e le fotografie. Non frugherà nei suoi cassetti alla ricerca dei motivi che lo spinsero in una fosa giornata canadese a ingannare lo sport a cui tanto aveva dato e ricevuto. Non ha rimorsi, non vuole chiedere scusa a nessuno. Quella storia raccontata cento, mille, diecimila volte è morta e sepolta come la conversazione tra l'ex militare dell'Armata Rossa e il giornalista del Guardian che ha provato in vano a intervistarlo. La truffa di Onnischenko invece era stata molto ingegnosa, una lucida follia che ti fa immaginare di essere invincibile, di compiere, facendola franca, il delitto perfetto. Aveva avuto coraggio e con o senza l'aiuto di qualcuno aveva studiato alla perfezione il circuito elettrico sfruttando nozioni e conoscenze. La sua astuzia farebbe arrossire esperti ingegneri e i tecnici fra i più preparati. Onnischenko ha imbrogliato in maniera diversa, fantasiosa, geniale. Prima i raggiri erano legati a sostanze che potessero migliorare le prestazioni. Nel passato c'erano state alcune questioni relative all'identità di genere, alle Olimpiadi di Berlino del 36 o a quelle del 60 di Roma, ma nessuno aveva mai osato arrivare a truccare attrezzature di gara. Ma la storia del più grande imbroglio olimpico presenta delle lacune, dei vuoti. Forse Onnischenko ha ideato ed eseguito lui stesso il colpo. Sembra probabile, ma non dimostrabile che avesse un complice. Avrebbe potuto praticare le sue arti oscure per mesi, se non per anni, o forse ha inaugurato quella sua truffa in uno sporco lunedì olimpico a Montreal. Solo Onnischenko avrebbe potuto dirlo con certezza nel suo ultimo disperato tentativo per l'immortalità, ma ha scelto di non raccontare la verità. È uscito di scena senza dire una parola su quella sua grande menzogna. Ha scelto l'oblio, il silenzio, la fine. L'uomo senza qualità di Musil, un uomo ai margini, la sua vita contenuta in un verso di Cesare Pavese. Non c'è cosa più amara dell'alba di un giorno in cui nulla accadrà. Grazie a tutti.